Per la nostra rubrica 3 minuti di abbiamo raggiunto Varigotti, questo è il paese che vi voglio mostrare oggi, voi sapete che la Liguria è un bellissimo posto da visitare in estate ma lo è anche in inverno perché ci sono davvero delle giornate come quella di oggi dove il mare è particolarmente suggestivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo a Varigotti, un borgo di origine saracena, un piccolo paese che vi consiglio di visitare in estate perché è una meta turistica per il suo mare e per le sue spiagge ma anche in inverno per godere come stiamo facendo noi di una fantastica giornata invernale con il mare in burrasca. Grazie a tutti. Grazie a tutti.